Buongiorno a tutti, questa è Sala Prove, siamo arrivati alla quarta puntata. Ciao a tutti, io sono Loris e sono il conduttore di Sala Prove. Potete sentirci su campusway.it. Oggi in studio ci sono venuti a trovare i Venus. Ciao! Sala Prove è un programma che va in onda su campusway.it, è un programma musicale che si sviluppa tramite un'intervista live a degli ospiti che vengono qui in studio da noi. Non so come definirlo meglio, abbiamo molte influenze però non abbiamo un punto di riflessione. Diciamo prima di tutto che i Venus hanno un profilo su MySpace. Durante questa intervista ai gruppi che vengono qui in redazione da noi ci saranno domande riverenti sul loro passato e sul loro futuro. Andremo a conoscere qual è la realtà savonese, genovese, musicale che non è affrontata forse dalle radio locali. Voi siete nati nel 2008 come Venus, ma eravate già attivi come Venus Infus prima. Sì, va bene. Va bene come definizione, è quella che poi ce la vendete così. Allora vi aspetto nella nostra Sala Prove. Quando volete sentire qualcuno che fa il cazzaro potete ascoltarci. Allora! 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 Allora!